Mi è scappato questo... guarda con che facilità e con che difficoltà ha aggiustato questo pallone La palla sembrava anche troppo lunga, lui ha riuscito tutto al volo a trovare anche questa palla che scavalca completamente il portiere che secondo me non ci può fare niente, applausi a un giocatore che di questi gol gli ha sempre un po' fatto La corobazia straordinaria e questo è un gioco di prestigio, ovvero una palla a Ghirre, il pallone invece sull'esterno Il cross, il controllo in due tempi e c'è il gol dell'Udinese di Coné, non nuovo Vorrò capire ovviamente quale sia il motivo dell'infortunio Cataldi prova la conclusione, Murato, il pallone arriva a Matri, il tiro e la rete, il pareggio della Lazio Perché in effetti devo dire è quello più cattivo, si fa trovare sempre il punto giusto Eccolo qua, ha piazzato una palla di sinistro, non era impossibile, però con la cattiveria e la voglia la Lazio è riuscita ad arrivare ancora una volta nell'area Avversaria e poi... Nulla ha potuto, Meret, diciamo che sicuramente è una situazione un po' di flipper L'incosso quasi immediato per l'entrata di Conco e l'arriva il gol della Lazio Il 2-1, il tap-in di Cataldi E guarda come ha seguito quest'azione Conco va a svirgolare, a toccare, gran parata di Meret, ma ovviamente tutto facile per Cataldi Che ha seguito l'azione Sembrato